Ma Monti se detto così vuol dire che se ne intende. Monti ha ben costruito il suo futuro politico. Da ultimo addirittura voleva dimettersi da presidenza del Consiglio per fare presidenza del Senato. Devo dire che Monti se ne intende molto sulla costruzione di futuri politici personali in barba ai interessi del Paese.